Ciao a tutti ragazzi, io sono Aurora e tu sei Louravica! Oggi ragazzi vogliamo fare una challenge molto particolare che ci è piaciuta tantissimo Allora, noi, sapete che ne abbiamo tantissimo fare shopping, vero? Bene, e appunto la challenge è Compro tutto quello che riesco a mantenere in mano e che riesco a portare in cassa Sarà un po' difficile, devo dire, perché... Tanto vincerò io! Sei sicura, Louravica? E tu dovevi comprare tutto quello che ho preso No, guarda che compri la mamma tutto quello che vengono a fare Ragazze? Sì? Ma lo sapete che la scuola sta per finire e che tra pochi giorni partiremo con le ragazze? Quindi lo shopping che farete oggi sarà tutto quello che vi servirà per le vacanze E poi abbiamo pure delle ragazze per i cucinetti Bravissima! Esatto! Eh, però, mi dispiace ragazze, ma potrete comprare solo quello che riuscirete a mantenere in mano e a portare alla cassa Senza l'aiuto del carrello Ludo, tu hai le braccine più corte, quindi mi sa che riuscirai a portare meno roba Vediamo, dai, vediamo quello che riuscirete a comprare Ok? E vi potrete anche aiutare a vicenda Va bene? Ho un patto però Io ti faccio cadere No, tu! Se io ti do un trucco, anche un vestito, tu lo fai apposta e lo fai cadere? È perso Ragazze, ma voi siete pronte per affrontare questa sfida? Sì, perché noi non ci arrendiamo mai! 9! 2, 3, 4, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 23, 23, 24, 23, 24, 24, 25, baja Su, andiamo, dai! Ok Dai ragazzi, andiamo Su, 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 su 3, 24, 25,�, 25, proclaim countable Guarda è buono, sembro una sfamilità! Muoviti, dai! Eccoci arrivati da Primark ragazzi e Ludo, andiamo! Ludo sei pronta per entrare? Andiamo! Allora, incominciamo! Allora, questo è proprio carino! Allora, come puoi mantenere tutte le cose? Guarda, guarda, c'è anche questo! Guarda che bello! Perfetto, allora... Questo per il mare! Allora, devo riuscire... Stai attenta, eh! Non mi entra... Perché se ti cadono le cose a terra, dopo devi posare tutto, eh! Come non manten... Così, ok, così! Ok? Ludo, tu hai visto qualcosa, Ludo? No, 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 no! Questo mi piace un sacco! Cos'è? Eh, una borsettina! Ma non si chiude! Ok! Sì, ma non prendere tutte borse! Questa la metto così! Ecco qua! No, no, questa posa la dai! Non mi piace proprio questa borsetta! Su, quante cose vuoi prendere? No, borse macchie! Ludo, tu cosa hai preso? Questo che me lo metto subito! Allora, ragazzi... Stai attenta, Ludo, perché se poi ti cadono le cose devi posare tutto, eh! Sappilo! Nooo! Quindi, mantienili bene! Ok, fatto! Non mi... Ok, così! Ok! Anzi, mamma, senti... Ho troppi i borsellini! Puoi portare qualcosa? Eh, esatto! Allora, utilizza! Sono dei miei colori quando disegno, fermo! Mini, mini, mini! Allora, allora! Questo? No! Aiuto! Allora... Mamma, non so cosa scegliere! Mi piace tutto! Tutto, tutto! Allora... Ragazze, guardate che bella questa borsa per il mare! Non posso mettere tutte le cose là dentro! Ah, è una buona tecnica! Esatto! Ah, sì! Si può fare! Possiamo prendere! Sì, tu la vuoi? Sì! Lo prendo anche io! Sì, ma non fate cadere le cose, ve lo dico! No! Aspetta! Ok! Ah, avete proprio pensato ad una bella tecnica! Ludo, ti adoro tantissimo! Brava Ludo! Che belle queste borsezette! Grazie! Grande Ludo! Allora, perfetto! Ok! Poi! Andiamo a vedere qualcosa di là, dai! Trucchi! Trucchi! No, gli occhiali ce li abbiamo! Vabbè, vediamo! Gli occhiali! Allora, questo? Vediamo! Ma che c'entrano gli occhiali! Wow! No, no, no! Un capone! Bello! Sto vanno nella zona trucchi, ragazzi! Anch'io! Aspettami! Andiamo! Ragazzi, mi fa un po' male la borsa! È pesante, eh, la borsa! Cosa stai vedendo qua, Ludo? Le pompe da bagno! Che belle! Allora, le prendo questa con lui! Ma così, Ludo, potete prendere troppe cose con questa borsa! Eh, mamma, questa qua è una... Cioè, si può! Non è che... È vietato! È una challenge! Mamma, è una challenge! Quante bosse? Quante bosse? Basta, Ludo! Quante ne prendi? Dopo riempi la borsa, non puoi prendere più niente, eh! Ludo! Guarda che bosse da bagno bambini! Oh! No! Una forma di bocca! No, no, no! Allora, subito nella borsa, queste qua vanno! Ok, una... E una, due! Ok! Allora, qui cosa abbiamo? Qui in casa sono questi! Ehm... Oh, questo è super carino! Allora, un corno da unicorno! Ludo, questo qua... Guarda! Questo qua! Vediamo, Ludo, fammi vedere! Oh! Il corno da unicorno! Ragazzi, questo qua mi servirà per truccarmi e per farmi delle maschere per il viso! Bene! Aspetta che le metti! Bella! Ok! È una fascetta! Quante maschere! Vedo! Mamma, perché non le prendiamo ancora per le continette queste sborso che sono belle? Sì! Io le prendo per Gaia! E io per Greta! Ok! Che belle! Ok, allora, ho due borse! Mamma! Ragazza, non fate cadere niente! Ve lo dico! Ma potremmo mettere anche qua dentro delle cose! Sì! Tutto quello che riuscite a portare in mano alla cassa lo potrete comprare! Adesso, ecco qui! Ludo, ma quante cose hai preso! Sì! Ok! Allora, un'altra borsa! Oh! Eh! No! Sì! Se prendi questa dopo non puoi prendere più niente, te lo dico! Ma come è questo? Ma come ci serve per partire? Eh, la devi prendere in mano! Ok! Allora, ci provo! Ci posso? Poi non puoi prendere più niente, però! No, no! No, mamma! Posso questo! C'è scritto! Ah! Vedi! C'erano tutte le iniziali! Piccadino! C'erano tutte le lettere praticamente! No, mamma! Io la prendo! Eh, scusate! Vorrei prendere! Bellino! Scusa! Ho un po' di difficoltà a prendere! Ah! Così! Aspetta! Aspetta! Non ci posso! Eh! Un mini portafoggio! Allora! Mamma! Vai a questa! E anche io! Come ci sono le nostre iniziali! Ebbene! Bellissime! No, no, no! Che scongiura! Io la metto dentro la borsa! Ludo, metti dentro la borsa! Non prendete troppe cose perché dopo sono cavoli vostri, eh! Se non ce la fate a portarli, eh! Ve lo dico! Eh! Ragazzi! Devo dire che però Ludovica ha avuto un'idea fenomenale! Eh sì! Di prendere le borse! Io avrei dovuto portare tutte queste cose così! Già, Ludo! Tu sei la mia sorellina! Ah! Ok! Allora! Top! Dobbiamo prendere le? Sì! Scarte! Oh! Delle unghie dentro! Ok, no! Scherzavo! Vediamo un po' qui cosa abbiamo! No! Abbiamo quelle unghie! Monica! No, 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 no! Mamma! Tutte unie figlie! Guarda! Voglio tutto questo! Oh! No! Le amo! No mamma! Le posso! Allora! Sto trovando quelle giuste! No! Voglio queste! Io voglio queste! Io voglio queste! Ma che vuoi tu? Ludo! Tutto anche 30 sono! Allora! Io voglio! Dai mamma su! Per favore! Sono bellissime queste unghie! Dai! Eh! Se le riesci a portare puoi prenderle! Mamma! Si che si riesco! Mamma ci riesco! Mamma ci riesco! Allora! Io vorrei o queste! Oppure queste qua! Colorate! Dai! Tutte e due! Mamma! Tanto dopo tu paghi! Quindi non c'è problema! Dai! Ragazzi! Benvenuti nel mondo delle fate! Cosa hai visto Auri? Questo! È un pigiama! Ma! È un pigiama? Però devo trovare la mia paglia! Allora! Mamma prendo una M! Una S veramente devi prendere! Questa! Una S! Ok! Una S! Perfetto! Ho un problema! Ho tutte le due borse piene! Quindi mi tocca tenerle in mano! Bene! Ok! Ho una terza borsetta! Ok! Andiamo! Ok! Andiamo! Ludo! Ah no! Aspetta! Non me lo potresti tenere tu gentilmente! Te lo devi mantenere da sola! Ok! Mamma! Voglio quello! Voglio quello in altissimo! Lo sei visto Ludo! In altissimo! Hai visto gli occhiali degli unicorni! Che bello! Fammi vedere! Provali! Ok! Vediamo! 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 Wow! Che bella che sei! Ludo mi sa che devi prendere una taglia un po' più piccolina! Devo dire! Aspetta! Vedete questi 4! No! Sono un'unica taglia Auri! Ah eh! Ops! Perfetto! Ragazzi! Sicuro che riesco a tenere tutto! Eh! Mamma! Ho io queste scarpe! Ma è il tuo numero Ludo? Sì! Che carine! Sono stupendo! Bellissime! Attenzione a non far cadere niente a terra eh! Perché se avvisata perdi tutto! Mamma! Ci sono delle... Ludovic! Ci sono delle mie taglia queste scarpe? No! No! Mi dispiace! Se no tu me lo butti per terra! Ah! Brava! Buon metodo! No! Mai! Ludo mi fa! Tu me le butti per terra! Ah no! Ma che cavolo! No! Le voglio solo fare! No! Le voglio a vedere! Ti do una borsa in faccia! Voglio solo fare con le guardie! Ludovic! Veramente! Le voglio a vedere! Chi hai visto Ludo? Questo cappello! Vediamo! Come ti sta! Che bellino! Wow! È carinissimo! Però non mi fa ragazzi! Perché non ti va? È proprio bello! È proprio grande! È grande? Grande grande! Ah 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 ah! Attenzione! Mamma non ti è caduto eh! Ma vedi si schiaccia la manina per caso! Guarda Ludo! Si illumina! Hai visto che bello! Mamma non voglio! Va bene! Andiamo! Aiuto ragazzi! Io non la posso bucare! Penso che tra un po' non riuscirete a portare più niente eh! Te lo dico! Aiuto! Mamma lo posso? No! Io tu no! Abbiamo la casa piena di pupazzi! No! Aiuto! Dai! Oh! Aiuto! È troppo pesante! È pesante Ludo? È pesante! La vuoi posare? No! No! Mamma non ci sono della mia taglia questo pantufolino eh! Eh! Penso proprio di no! Dai! Ma non è chiuso! Mamma prendiamo questo capere cuginette! Dai dai dai! Eh! Riesci a portarlo? Certo che riesco a portarlo! E lo voglio anche io però! Guarda! C'è anche la taglia 13-14! Ah! 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 No! È l'unico taglio! Mi dispiace no! Mi dispiace mi dispiace non lo puoi prendere più! Benissimo! Io prenderò proprio queste! Aspetta! Mollettina! Vediamole! Forfalla! E hanno anche una tonalità di colore magnifica! Belle! Guarda di sfumatura! Arancione! Molto carine! Ok! Queste qua! C'entra ancora roba ragazze! Oh! Qua c'è il mio pigiama! Aspetta! Eh! Mmm! Io direi di prenderla ancora! Dai dai! Invece io prendo questa Greta! Cos'è? È un pantaloncino! Ah! Che bellino! Ah! 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 Ce la fai Ludo? Non lo so ragazze! Eccola! Pensando questo me lo prendo e me lo metto in testa! Ah si? E se io faccio quello? Ok! Non lo faccio! Va bene! Va bene! Andiamo! Vediamo! Vediamo che sembra appena uscita dalla spiaggia! Guardate la borsa e il cappello! Eh si! Vai Ludo! Che cosa? Wow mamma! Cosa è sta roba Ludo? Guarda sono dei rossetti! Che carini! Niente più Ludo! Eh scusate ma pesa un po' la mia borsa! Eh ci credo! Ce ne andiamo ragazzi? Avete finito? Guardate che rischiate di farvi cadere tutto dalle mani e dopo... Io si! Ho preso! Cucu! Mamma! Sai che ti dico? Lo prendo anche per Gaia! Allora lei deve essere XS! Allora vediamo un po'! Eccolo qua! No! Prendile la S anche a lei perché... Ah beh XS dai! XS? Sì sì! Maglio XS! Ok! Allora ragazzi! Così siamo le gemelline! Siamo gemelline! Ludo! Non ce la fai? Sen'è ma si è. È questa per cadere la borsa. Ma voglio! Ma io non puoi! Mamma! Mamma vuoi anche questo?! E' carino questo! Ma Yuri! Siclocke Estado! movies! attenzione! Ah.. Dimmi! S s Devi trovare la S! Norria, Chala Edbe! Oh! Aiuta è intera, aiutala! aiutala oh mamma aspetta ok dai andiamo alla cassa io direi che può bastare così se ne dite andiamo a pagare perché sennò rischiate di non portare niente a casa oh my god questi sono per me ma che stai prendendo Ludo mamma li posso per favore no però non prendete tutte cose inutili dovete fare shopping per le vacanze Ludovica visto che io sono gentile ti mette quel cappellino non so che mi sembrate ragazzi la gente mi guarda malissimo diciamo ma seriamente ma non mi guarda malo Auri ma quanti ne hai presi di questi pigiami giacchi ho capito ma non so buongiorno a tutti ok tutti bene no vabbè siete folli proprio no mamma mi cade la borsa allora per un po' di cose leggermente ok secondo no ma non abbiamo presi bocca dai ma solo le piccole bocca ma si ma si ma si siamo arrivati qua di giorno ed è sera si ragazzi guardate è deserto stiamo rimanendo chiusi nel centro commerciale quindi dobbiamo affrettarci ad andare a casa e uscire di qui pochissime persone quindi è meglio di andare pochissime persone Ludovica mi potresti aiutare gentilmente? è meglio mamma brava stavi per capire ok Ludo ma questa borsetta te la devi mettere quando vai a mare eh? quando vai al mare ti metti questa borsetta mamma sto sentendo mi piace chiudersi si ragazzi guardate tutti i negozi stanno chiudendo guardate questo è chiuso ok guardate quello aiuto ragazzi corri corri Ludo di là di là dove fate? di qua Ludo Ludo corri Ludo Ludo fate presto fate presto che rimaniamo chiusi Ludo aiuto vedi di cadere Ludo 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 ok ragazzi abbiamo messo tutto nel bagagliaio e nulla il video finisce qua noi vi salutiamo speriamo che questo video vi sia piaciuto e mamma hai speso money mai più questa challenge ve lo dico vabbè ragazzi questo è facile iscrivetevi ma non te lo dimentichi mai eh campanellina e lasciate i tantissimi pollicioni in tu fatelo eh ciao ciao nooo se non aspetta fammi chiudere troppa roba non è lenta aspetta aspetta ok no ok dovrebbe chiudersi è lenta dai troppo dai Grazie a tutti.